La mia famiglia è la mia famiglia 3. ma è uguale, è uguale, è uguale, è uguale da si gioca. Quali giorni devi fare da trenirate e quali ci sono da parte di voi? Zavise da provate, da repertoare, ma lavoriamo per 7, 8 ore. Sve koji giorni? Sve koji giorni, se baiola e porrezzate. Hai raggiunto da tretmano, da balletskio, da tretmano, 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 da tretmano? Sve ovviamente, ovviamente, non ho quello, ma la nostra l'hova con i giri. Le veste? E così, e così. Bidete l'hobezza, e scusate, ma è una cosa che vi capisci a provate, quali state voi? Io sono in paleto come sempre un valetino, credo, da 64. do 17. Grazie a tutti. 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 e come risultato di questo, non è stato un po' ragione, un po' ragione, un po' ragione, un problema per i nuovi quadri. Grazie a tutti. 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 l'Ansambla za sobremena muzika Sveta Sofija, Ivo Kamerniot, orkestarna radio e televizija Skopje. Da li to znači da non abbiamo dovolno muzički cadri? E, alla fine, come si è adrazzata la qualità della musica che è la pubblicità più importante? Per la qualità della musica è la critica della musica, ma è un po' che è il najgolemini muzički centri d'Europa da un'odredini muzičari, sobretanto po kvalitetnice, è un'onorario su po sedmer angažman e in un'altra cosa, in un'altra cosa, osobbero i un'amera, o di una cosa, in una cosa, in un'altra cosa, ma è un'azardata sredina che è poi a di fare un'azardata, perché è un'azardata che è un'azardata che posto il'azardata che è un'azardata, e doveva anche da un musicista in Sviri si è stato fatto in tre insamble. Qual è il prilivio della musica dell'akademia in Skopje? Per questo tempo, 7-8 anni, in quanto è stata la nostra musica musica, credo che il prilivio dell'akademia di altri musici centri in grado, il prilivio è adekvatato. Sono nella disciplina di nonostre, in quanto è il quino è nel quino. È il quino che è il quino è il quino che è il quino è il quino è l'attuto della musica e il quino delle imparazioni in grado, ma sono arrivati, quindi sono diventati da gli imparazioni in grado, hanno un'azurazione di studi e scolovare. Il processo è iniziale dell'escrizione, quindi ho un'azurazione, secondo i nonostre, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.